Chi parla di voi? Ho bisogno di capire chi parla, mi serve Ciao Gianni, ciao a tutti, ciao Radio Marte Buongiorno, parla quindi Andres Andres Balbusea Balbusea, che quindi tu non sei di Napoli? Perché a mamma piaceva la Spagna Ah, e vive ai quartieri spagnoli E vive ai quartieri spagnoli, non a caso Che cognome è? Balbusea Balbusea Che cognome è napoletano, no? Cognome no, cognome è spagnolo Ma quindi tua mamma è spagnola? Mio padre è spagnolo Ah, è spagnolo Sì E vive ai quartieri spagnoli? No, io vive con mia madre a Napoli E lui vive in Spagna Li domandò di Spagna L'ho mannato, state l'aria, serve prove State a Spagna Oh, e vai Gliel'ha detto Allora a tutte le madri Mi sono via Oh yes, mi è qui Tutti i compagni mie Si fanno B&B Puro senza fare E capito sci Si fai sorda coppa E tu ci fai al sol Affin da camera e panca E non ci trovo nella stanza Affin da camera e panca E pur ruggi sul mese m'arrancia Affin da camera e panca E non ci trovo nella stanza Affin da camera e panca E pur ruggi sul mese m'arrancia Emergenza abitativa a Napoli Affin da camera e funk Bravi, 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 bravi Questa è una canzone Proprio bella Dal messaggio forte Si, è praticamente Oh, oh Chiava Inde Da metropolitana Forza Anderra Ma che caro Dockla Oh, oh Parabella Oh, oh E noi siamo Vietnam E cammino sotto muro Canucchiana più sicura Bella e buona l'indrasata Si fulà dall'altra parte Tromba d'aria a Carlo Dex Sacca a posto nei camion Mamma mia mi sento questo Ma che sangra marone Allerta Meteo Allerta Meteo E allerta Medio in tutta Napoli E vai! Buongiorno Buongiorno, ciao, buongiorno Ciao Gianni Eh vi saluta puro a voi volevo fare una domanda ad Andres il suo cognome ma con chi parlo? ma tu chi sei? io sono Costantino ah Costantino lui Costantino faceva i panini con la cioccolata me lo ricordo tu sono 15 anni che mi avevano su te proprio ma io ti ho pagato a peso d'oro Costantino va bene dai demandami Liban qual è la domanda che c'è dei soldi volevi i soldi del panino con la cioccolata che ho al liceo e queste sono domande da fare agli artisti domande ma hai fatto i soldi ma con il panino avrà ragione Costantino è una domanda molto artistica se finalmente paghi il panino vuol dire che hai avuto successo ancora ancora aspetta un altro album grazie con l'acqua chi l'ha ne buono guaglione la vita è non risulta un l'ambione e quando arriva mezzanotte il scena va a fanicare chi l'ha ne buono guaglione e che bocata che è un po' di giù ha cominciato col vestito della sorella papazia chi l'ha ne buono guaglione e poi entra la signora chi l'ha ne buono guaglione e ancora l'amore perché avete finito già un minuto un attimo minuto allora ma vado al cazzo muso chi l'ha adesso mi ignora ma che andate a gettone cioè a secondi eh no le abavate eh va bene ma quale è il problema te li mando allora vai vai arriva Teresa c'è Teresa arriva e mi chiamerò Teresa scenderò a far la spesa faccio crescere i capirle e mi metterò anche il spiglio inviterò gli amici a casa a passare la giornata senza avere la paura che ci sia una chiamata e uscire forpe strada e gridare su normale e nessuno mi dice niente e nemmeno la strada chi l'ha ne buono guaglione può essere una signora chi l'ha ne buono guaglione e ancora l'amore ciao Pino bravi talmente bravi che sembra eh poco troppo poco vabbè la vostra volta vi invito alle nove vi faccio alzare all'altro comunque grazie veramente ricordiamoli tutti dai che tu conosci tutti i nomi e cognomi bene vai il maestro Vincenzo Lamagna al basso Alessio Pignorio sprucci famiglia figlio di artisti il maestro Alessio Pignorio alla chitarra il maestro Andrea Sbalbusea alla voce io sono Paolo Bata Bianconcini alle percussioni noi siamo i Funky Machine